Bentornati su Super Mario 3D Land Scusate se faccio un video dopo tanto tempo ma sapete sono stato occupato Comunque oggi si farà il mondo 4 E come vi ricordo sempre mettete un mi piace o non mi piace al video Iscrivetevi al canale e scrivete nei commenti se volete iscrivervi a qualcosa O volete domandarmi qualcosa Dov'è il fungo? Ecco Uh decupa Mi andava di colpirne un Di colpirne almeno uno Dai Vita Ecco Ecco Si continua a fare capriano contro un muro Ecco Piano Ecco qua Di nuovo quello in 3D Ma io fa così Per sicurezza Anche perché come vi ricordo Questo non è un Nintendo 3DS Quindi non ho il pulsante per metterlo in 3D Sì perché il Nintendo 3DS si può fare Solo là Purtroppo Nooo Sono caduto Speriamo che c'è ancora No Vabbè lo rifarò Un cannone Ecco Una cosa Quando puntate con il cannone State attenti Alcune volte Tipo non so Immaginatevi che dovete farlo Per arrivare al traguardo Molte volte Dovete Dovete Ecco Puntare un po' in alto Perché altrimenti Se puntate precisamente Sulla Cima Della bandiera Potreste non arrivarci Oh Una stella Anche se non mi compito Sarebbe super stella Ma non mi importa È già durato poco Oh Quanto tempo No Ho mancato La seconda La seconda Medaglia Ocromata Beh Vi farò Il Il livello Da solo Appena però Riturna Quel Blocco Musicale Alcobaleno Beh Lo farò Insieme a voi Così per dire O forse no Perché ho scoperto Una cosa Dov'è Ecco Ah E che sapevo Ho scoperto Anche un'altra cosa Una cosa Che mi faciliterà Le cose Ecco Stavo Stavo salendo in cima Quando poi sono caduto E alla fine ho scoperto Che questo blocco In realtà È un blocco Elica Cioè Qui c'erano E l'ho perso Cioè qui c'erano le cose Che mi avrebbero Semplificato la vita E io non le ho trovate Come mai Le ho trovate Solo adesso Non lo so Forse perché adesso Forse perché L'avevo messo in pausa Quindi Beh Avevo tutto il tempo Per cercherlo solo Comunque Comunque Sono arrivato Eccolo di nuovo qua Voi non avete sentito Quello che Una voce Vero Comunque Se ricado giù Li farò di nuovo Da solo E magari se ne riesco Comunque 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 Grazie a tutti.